Oggi c'è una grande comunicazione, nel senso che c'è una sperimentazione e noi siamo onorati che Verona Veneto sia attore principale tramite il centro di ricerca e clinica, ma poi il magnifico rettore vi spiegherà meglio, è partita la sperimentazione del vaccino. E quindi del vaccino contro ovviamente il Covid-19, sembra anche che ci siano, ma poi lo diranno gli esperti, ci siano dei buoni segnali, si sappia che in Veneto è avviata questa sperimentazione che avrà delle tempistiche e ci porterà alla fine all'ottenimento del prodotto finale e quindi la possibilità, in maniera non obbligatoria, a somministrare il vaccino a chi lo volesse. Lo studio prevede la somministrazione a circa 90 volontari sani di tre dosi diverse del vaccino, dosi progressivamente crescenti, completata questa prima parte, intestate tutte e tre le dosi, si passerà a somministrare il vaccino in soggetti potenzialmente più fraligili di età superiore ai 65 e i soggetti saranno seguiti per circa sei mesi. In questi sei mesi si hanno fatto tutta una serie di valutazioni per valificare la sicurezza del vaccino. La sperimentazione si concluderà entro marzo dell'anno prossimo, ma già prima di Natale potrebbero essere disponibili dei dati importanti.